Automobili nel mirino dei ladri a Battipaglia negli ultimi giorni ed anche la scorsa notte i malviventi hanno danneggiato i veicoli in sosta ed hanno rubato i fanali, in alcuni casi sia quelli posteriori che anteriori. Nel mirino dei ladri esclusivamente Fiat 500 nuove di Zecca. La scorsa notte i malviventi hanno mandato in frantumi il deflettore del veicolo e poi hanno rubato i fari. Scene simile anche nei giorni scorsi. Il modus operandi dei ladri è sempre simile e dopo aver forzato gli sportelli o aver rotto i finestrini proseguono smontando i fari e rubandoli. A volte vengono rubate le parti elettroniche dei cruscotti e i danni sono molto più ingenti. Amara l'ha scoperta questa mattina per il proprietario di una Fiat 500 nuova di Zecca che l'ha ritrovata senza i quattro fanali e si è sfogato sui social pubblicando anche la foto del veicolo danneggiato. Tantissimi commenti su Facebook dei cittadini che chiedono maggiori controlli delle forze dell'ordine. Ad agire molto probabilmente ladri forestieri ma molto esperti nel rubare i fanali delle auto o altri componenti che poi vengono rivenduti online o in altro modo come pezzi di ricambio.